Questo comunicato trap è del numero uno L'unico comunicato stampa fatto con solo Qui in AB09, in agenzia Abbiamo aperto un diguartimento che Portami via, si fa solo ai, solo ai, solo ai Al di là del bene e del male Facciamo solo intelligenza artificiale Una unit verticale, un'idea niente male Che sia centro di produzione Ma faccia anche osservazione Delle gatto e delle piattaforme Di stagazzo di A in tutte le forme Scusate la parola, c'è si sa Se c'è il copy boomer ci perdi la faccia Facciamo le canzoni con su uno Ma non ce le compra nessuno E adesso basta con sto platerale Salutiamo i bro e andiamo a lavorare Scusate la parola, c'è si sa Se c'è il copy boomer ci perdi la faccia Facciamo le canzoni con su uno Ma non ce le compra nessuno E adesso basta con sto platerale Salutiamo i bro e andiamo a lavorare Facciamo le canzoni con su uno